dell'informazione epigenetica. Quindi arriviamo alla grande responsabilità che abbiamo noi operatori della sanità, soprattutto noi medici, del fatto di vedere anche questa apparecchiatura come una grande forza nostra per poter passare, e questo è molto importante, semplicemente dalla diagnosi anche a una regolazione, a una regolazione di vita, ma una regolazione informativa, dell'informazione dell'organismo del nostro paziente. Quindi in qualche modo, diciamocela proprio tutta, anche un atto terapeutico. E direi che questo è molto importante perché spesso e volentieri ci sono dei professionisti che già usano l'S-Drive, ma non hanno ben capito questo salto qualitativo. Cioè che non è solo un parere diagnostico, tecnologico, ma è un qualche cosa molto di più, un qualche cosa che rende responsabile il terapeuta, perché lo rende coautore di una decisionalità che il paziente deve prendere. È una responsabilità che il paziente deve assumersi insieme al suo terapeuta, al suo medico. Ultima cosa, è importante questa saggia considerazione che ha fatto Esteban, non per il dolore, ma tutto per la consapevolezza. E questo è anche una visione molto etica che noi dobbiamo avere, noi operatori della sanità, dobbiamo consapevolizzare prima di tutto i nostri pazienti. Quindi arriveremo alla vera medicina predittiva, non solo preventiva, ma predittiva. Cioè la medicina dove in primis è il paziente stesso che è coautore insieme al suo terapeuta della sua salute. Grazie. Allora abbiamo il professor Massimo Bonucci dell'Università di Chieti, presidente dell'Artoi, che ci parlerà della medicina integrata, nutrizionale e nutraceutica per i pazienti. Prego professor Bonucci. Grazie a tutti, io devo ringraziare sia il comitato che Giorgio di avermi invitato a poter parlare un po' del concetto della medicina integrata. Io parlerò della medicina integrata in oncologia, considerando questo concetto importantissimo dell'integrazione in oncologia, ovvero l'utilizzazione di sostanze naturali, quindi in associazione diretta con quello che è il trattamento classico. Non possiamo pensare di fare qualcosa al di fuori di quello che sono i risultati, che comunque vanno intorno a un 60-70%, quindi è buono, ma non è tutto. Quindi ecco perché noi consideriamo il concetto dell'integrazione con tutte quelle altre cose che possiamo fare proprio in questo campo. Perché questo? Perché i pazienti in qualche modo ci chiedono alcune cose e lo chiedono non perché vogliono miracoli. La maggior parte dei pazienti, questo è un lavoro che hanno fatto i colleghi in Europa, in cui vogliono, i pazienti vogliono una riduzione degli effetti collaterali, vogliono stare meglio. Non c'è più il concetto di vita-morte quando faccio, quando ho un tumore, ma ho solamente una qualità della vita diversa. E questo è quello che chiedono i pazienti di avere durante il periodo che stanno facendo il trattamento, o anche chiaramente successivo, perché poi vedremo anche l'importanza della successiva. Abbiamo, eccoci, tra l'altro è questo il concetto. Noi abbiamo proprio l'efficacia del trattamento sulla qualità della vita, che è quello che noi dobbiamo fare, e la qualità della vita è in questo senso intesa nel periodo di chiameterapia, ma la qualità della vita è anche quella dopo, e poi vedremo l'importanza, il concetto della prevenzione. Sappiamo che la medicina integrata è presente in Europa, con diverse legislazioni, ma è presente in molti paesi europei. È un qualche cosa di abbastanza normale. Lo sappiamo praticamente anche in Italia, noi abbiamo questo discorso di integrazione. Ci abbiamo oramai delle società internazionali di oncologia integrata, in cui in effetti viene sviluppato il concetto di integrazione. Ci abbiamo gli americani, fra l'altro voluti dall'American Cancer Society, quindi all'interno del quale abbiamo già delle internazioni, ma vedete, ce ne sono proprio a livello internazionale. Fra l'altro, questo è un lavoro che abbiamo fatto insieme ai colleghi, vedete, anche a livello del gruppo di ricerca, in cui in effetti abbiamo Certoi e c'è la Toscana, come gruppo di lavoro per quanto riguarda lo sviluppo e l'integrazione di questa attività. Queste sono le università americane che hanno servizi di terapia integrata. Quindi quando un paziente chiede al collega oncologo ma c'è qualche altra cosa, il collega oncologo non gli può dire non c'è niente, perché non è vero. E quando un paziente chiede un aiuto, non chiede la luna, chiede quello che hanno pazienti a livello europeo e a livello internazionale, quindi un aiuto è sicuramente importante. Questo è uno dei nostri ultimi viaggi che abbiamo fatto con i colleghi che siamo stati al Memorial Sloan Catering, dove c'è un reparto, unità operativa di medicina integrata, dove in effetti l'agopuntura viene fatta ai pazienti a letto. Quindi in effetti durante il trattamento i pazienti in ospedale questo hanno al Memorial Sloan Catering. E questo è quello che c'è nel role dell'ospedale appena si entra a livello del Memorial Sloan Catering Cancer Center, quindi una dei più grossi realtà. Ecco quello che vogliamo fare Artoi. Artoi è l'associazione di ricerca per le terapie oncologiche integrate che vuole diffondere una conoscenza di questo genere, quindi la divulgazione, la ricerca, e poi vedremo il concetto di ricerca che noi stiamo utilizzando, sviluppare una terapia personalizzata, la prevenzione e l'utilizzo che sono in qualche modo un aiuto a quello che noi possiamo fare. E il concetto di alcune raccomandazioni date in effetti la nostra conoscenza in questo senso. Noi collaboriamo praticamente con l'Istituto Superiore di Sanità dove facciamo un questionario per come i pazienti hanno avuto accesso alle terapie integrate, che cosa pensano anche delle terapie integrate e tutto quello che hanno. E questo lo si può fare anche via mail e direttamente sul sito sia di Artoi che di IMAC e dell'Istituto Superiore di Sanità. Eccoci. Fra l'altro con l'Istituto Superiore di Sanità stiamo sviluppando un portale dove l'Istituto Superiore e Artoi svilupperanno tutte le tematiche di ogni pianta, quindi andremo a dire che pianta è, che cosa c'è, quali sono i prodotti, quando è possibile utilizzarla o meno, perché poi vedremo l'importanza della conoscenza. Ecco il concetto della formazione in questo senso. Fra l'altro sappiamo anche che in Toscana, in Toscana ci sono 90 ambulatori, 90 ambulatori di medicina integrata, quindi il paziente toscano va in ospedale con la ricetta rossa per avere una visita o di agopontura o di fisioterapia e tutto il resto. Quindi abbiamo comunque dei personaggi, quindi delle persone che sono di serie A, di serie B a seconda della regione che si trovano. In Toscana sì, in Emilia Romagna anche, attenzione anche Emilia Romagna, in Lombardia forse, in altre parti invece in effetti niente. Quindi l'importanza anche di far conoscere queste cose a livello italiano. Fra l'altro vi volevo far vedere, torno un secondo indietro, che già ci sono dei reparti di medicina integrata e ci sono praticamente a Pavia, ci sono quindi al Gemelli, ci sono praticamente a Roma, ci sono a Bologna, come vedete, ci sono praticamente ad Osta, ma sono veramente sporadici. Noi vorremmo che in effetti in ogni ospedale ci fosse un concetto di terapia integrata per i nostri pazienti. Queste sono anche le altre cose che possiamo fare sempre per i pazienti, per dargli una mano in tutto questo. E questo è perché noi pensiamo che il paziente venga al centro di quello che è la nostra relazione. Diceva bene il collega spagnolo, noi dobbiamo insegnare al paziente ed è il paziente da cui dobbiamo fare una terapia più specifica, ma dobbiamo per forza di cose fare anche una nutrizione più adeguata, migliorare la qualità della vita sicuramente, è anche un aiuto, come vedremo, l'importanza di queste cose. Perché? Perché la nutrizione ci dà il vantaggio, la nutrizione è uno dei pilastri del trattamento integrato. È uno dei pilastri per molti motivi, quindi per l'aiutare, per la prevenzione oltretutto delle malattie, perché non perda peso, perché poi vedremo che è importante, non perdere peso mentre si fa la chemioterapia. Fra l'altro questo è un lavoro che è stato presentato dal collega dell'Istituto Tumori di Milano in cui ha dimostrato l'importanza del digiuno per i chemioterapia. Non possiamo fare il digiuno quanto ci pare, dobbiamo stare attenti a farlo oltretutto, perché il digiuno potrebbe portare a una riduzione di peso e la riduzione di peso riduce la guarigione. Perché in effetti quando noi perdiamo peso, perdiamo praticamente proteine, le proteine in circolo servono perché devono trasportare i farmaci. Se noi perdiamo peso, le proteine sono meno in circolo e il paziente sta peggio e agguarisce di meno. Ci sono ormai lavori che dicono che la sarcopenia è un indice prognostico negativo, quindi bisogna stare molto attenti a utilizzare anche il digiuno per i chemioterapia, quindi non fare 5 giorni, 6 giorni, 10 giorni, 30 giorni, perché sennò si rischia di far fare una, di dare delle indicazioni al paziente che non sono quelle giuste. Dobbiamo stare molto attenti in questo. Ma chiaramente sappiamo che l'alimentazione gioca un 30% e quindi bisogna conoscere cosa poter fare e cosa poter dare al paziente. Sappiamo benissimo che... Eccoci qua. Sappiamo... Eccolo il concetto dell'epigenetica, perché in effetti quello che nutre agisce a livello del nostro DNA e lo sappiamo benissimo e lo dimostrerò anche ulteriormente in questo. Abbiamo... Andiamo avanti... Sappiamo benissimo che la dieta mediterranea è sicuramente un vantaggio per il nostro paziente, perché abbiamo una mortalità diversa, se riuscisse ad andare avanti sarebbe sicuramente meglio e sappiamo anche che cosa poter dare da questo punto di vista. Sappiamo anche che c'è una scelta preventiva in oncologia, quindi dare queste cose sicuramente è un vantaggio al nostro organismo. e ci sono lavori oramai delle indicazioni scientifiche che ci dicono praticamente questo, che è l'importanza di questo. E sappiamo anche che ci sono del cibo e della risposta immunitaria, anche perché sappiamo benissimo che l'infiammazione è la cosa peggiore che possiamo avere e l'infiammazione entra un po' in tutti i parametri. Vedete in quante patologie entra l'infiammazione? E l'infiammazione è il primus movens dei tumori e sappiamo oramai benissimo. Fra l'altro sappiamo anche che ci sono delle sostanze cancerogene e ci sono anche sufficienti lavori in tutto questo. Perché ci sono degli agenti biologici, i virus, sappiamo benissimo, sufficiente evidenza, ci sono i lavori scientifici nei linfomi. Ci abbiamo realmente i virus per la cervix, sappiamo l'alluminio, sappiamo il fumo di tabacco, fumati due sigarette ma si non ti fa niente. No, no, perché il fumo comunque dà un danno. E siccome abbiamo il concetto omeopatico, olistico, due sigarette è una quantità enorme di sostanza. Quindi difumati due sigarette perché fa bene, è un discorso che noi non dobbiamo fare come medici. Dobbiamo dire secondo me no, secondo me no, poi c'è il libero arbitrio che ognuno di noi può dare. Ma noi non dobbiamo dare l'indicazione sul libero arbitrio, dobbiamo dare indicazioni, dobbiamo dare scienza e non solamente nostre opinioni. Però sappiamo benissimo che ci sono nutriaceutici, ovvero alimentazione come aiuto al nostro organismo, sicuramente importante. Conosciamo bene ogni sostanza, dove può agire e come può agire. Sappiamo benissimo quali possono essere gli omega 3 all'interno di alcune degli alimenti. E questo è importante perché poi andremo a vedere quale sono le importanze di utilizzare queste cose. Le proteine. Le proteine possiamo trovarle anche in altri posti, non solamente nella carne. E la quantità non è poi inadeguata. 100 grammi di baccalà sono 50 grammi di proteine. Non c'è nessuna carne rossa che ne porta tante. 39 le porta alla bresaula. Quindi fondamentalmente dobbiamo spiegare al paziente che quando gli tolgo la carne, tolgo perché tolgo un fattore di crescita. Ecco il concetto fondamentale. Noi dobbiamo togliere ai pazienti fattore di crescita mentre fanno la chemioterapia. E anche chiaramente in prevenzione. Quindi quando diciamo di togliere alcune cose, non perché non ci piacciono, siamo vegani o vegetariani, dobbiamo ridurre i fattori di crescita in questi pazienti. Sappiamo anche della biodisponibilità che è importante. Il calcio nel latte è il 30%. Allora a questo punto è meglio trovarlo nei broccoli che hanno il 50%. Quindi l'importanza è anche di come lavorare, di come utilizzare queste benedette sostanze. Sappiamo che tutte le sostanze vanno bene, sì, ma il tè verde bisogna stare attenti a utilizzarlo in gravidanza. Perché se no riduce la possibilità di assorbimento di acido folico. Le catechine hanno questo. E c'è un'interazione tra il tè verde e l'assorbimento di acido folico. Quindi bisogna stare attenti a dire bevi quello che ti pare, mangio quello che ti pare. Non è così. La conoscenza e l'informazione sono le cose più importanti. Fra l'altro se ho l'anemia, è vero che gli posso dare tutto, ma ci sono alimenti che mi possono aiutare durante il periodo della chemioterapia senza che abbia grossi problemi e quindi aiutare il paziente con l'alimentazione. Sappiamo benissimo questo. E questo è un aforismo che a me dà fastidio. I pazienti che fanno chemioterapia e hanno praticamente, devono dicere non mangiate le cose crude perché portano batteri. Non c'è uno studio che dice questo. Non c'è uno studio scientifico. C'è lo studio fatto dai colleghi di Emzerson che non è un problema delle verdure, ma di dove li fanno, fast food o altri. Quindi quando i pazienti dicono avete chemioterapia, quindi avete i globuli bianchi, bassi, non mangiate le verdure crude, non è vero. Perché non è lì il problema. Non è stato dimostrato che nessun batterio di quell'insalata è stato causa della diarrea in questi pazienti. Ma dove è stato fatto questo qui? Fra l'altro sappiamo benissimo che quello che mangiamo adesso non è più quello che c'era 50 anni fa. Perché in effetti questi sono i valori attuali delle sostanze. Perché? Perché il terreno è diverso. Quindi anche quando io dico mangiare biologico, sì, faccio solamente una parte, perché purtroppo gli alimenti hanno perso gli elementi che erano importanti. Quindi ecco l'importanza di conoscere tutte queste cose. Sappiamo benissimo che come fanno i giapponesi abbiamo dei functional food, ovvero alcune sostanze ci aiutano a vivere meglio anche quindi per la prevenzione che noi abbiamo. Abbiamo importanza di quello che poi è la qualità, la quantità, questo ormai l'avete visto già diverse volte. E sapete anche perché? Perché ci sono alcune sostanze che agiscono a livello del DNA, aiutando o riducendo praticamente l'attività di queste nostre sostanze. e in base a quello noi potremmo in qualche modo agire a questo livello. Abbiamo benissimo una cosa importante. Ogni sostanza che noi introduciamo sappiamo benissimo che arriva al livello del DNA. L'abbiamo visto, l'abbiamo dimostrato. Allora a me piace sempre far vedere questa diapositiva. Ah, perché? Perché è stato visto due anni fa quando era a Bologna nel congresso, dei biologi hanno dimostrato che nelle donne in gravidanza in un'area del Trentino dove ci sono le mele e dove c'è il prosecco, hanno trovato delle tracce di pesticidi nelle urine del bambino appena nato. Ovvero, questo bambino è cresciuto è cresciuto in un ambiente pieno di pesticidi. Quindi il problema dell'epigenetica ambientale è estremamente importante perché vedremo da qui a 30 anni le problematiche che vengono fuori. Ma ancora di più per comprendere l'importanza è questo. Se io a queste due larve, quindi specie di larve, no? Ad una do la pappa reale, ad una no? Quella in cui non do la pappa reale continua a spalare il miele. Quella che do la pappa reale diventa aperegina. Abbiamo capito perché. Perché la pappa reale va a silenziare un gene epigenetica. Alla larva il gene normale do un farmaco, una sostanza che in questo caso potrebbe diventare farmaco che va a bloccare un gene. Ecco che in effetti questo fa aumentare la proliferazione cellulare e viene fuori l'epigenetica. Ma allora posso dire che ci sono altre sostanze? Beh, ce ne sono sì delle sostanze. Tutte queste sono epigenetiche. Quindi che giocano un ruolo importantissimo all'interno della mia realtà quotidiana. E io posso decidere, ecco il concetto ed ecco il concetto di dove io posso stare e posso andare. Queste sono quelle le raccomandazioni che voi conoscete della World Cancer Research Foundation. Queste sono quelle in qualche modo che ci sono anche dell'American Cancer Society. Abbiamo fatto delle raccomandazioni in Oriar Toi legate quindi nel 2012. Abbiamo detto secondo noi le cose che dovremmo dare in nutrizione oncologica. attenzione questo significa in pazienti che stanno facendo trattamenti quindi non è necessariamente la stessa cosa in pazienti che fanno prevenzione o in prevenzione primaria o secondaria. Pazienti che fanno terapia e chiaramente quelle che possono invece utilizzare che secondo noi sono le cose più importanti da poter fare. Ma sappiamo anche fra l'altro quindi che il movimento è una cosa importante attraverso il movimento e attraverso la nutrizione potremmo andare a ridurre l'incidenza delle neoplasie e lo dice praticamente l'American Institute of Cancer Research e questo cosa. Sappiamo il microbiota solamente un accenno a quello che adesso d'ora in poi sarà il nostro punto di forza il microbiota perché sappiamo praticamente che ci sono dei batteri che cambiano la risposta immunitaria dei pazienti facendo immunoterapia se io ho fatto un antibiotico 30 giorni prima sono i pazienti che non rispondono all'immunoterapia mentre invece altri sì e questo lo facciamo anche attraverso nella gencitabina perché va a distruggere alcuni tipi di batteri che sono importanti e questo lo faccio anche con altri tipi la chemioterapia che in qualche modo anche con il rinotecano gioca un ruolo importante quindi l'importanza del cosa ma sappiamo benissimo che ci sono delle sostanze naturali che giocano in ogni parte del nostro organismo e in ogni parte dell'evoluzione del tumore ne farò vedere velocemente ma per farvi comprendere anche questo noi abbiamo delle sostanze che possono giocare sulla nostra azione sappiamo benissimo che se sono degli induttori o inibitori possono essere o riduzione dell'effetto o aumento dell'effetto bene conoscendo un po' il nostro organismo e sapendo dove vanno a finire i nostri antiblastici che vanno su questo CYP sappiamo delle sostanze che vanno ad interferire ecco una delle cose più importanti da conoscere l'interferenza delle sostanze naturali prendo tutte le sostanze no perché interferiscono in maniera importante con la chemioterapia quindi noi abbiamo detto attenzione a utilizzare addirittura le chinacea con il taxolo piuttosto che con la vincristina quindi attenzione a utilizzare ecco la conoscenza attenzione scoraggiare o evitare alcune sostanze naturali ma questo significa che noi conosciamo anche quale sono le sostanze che dobbiamo e possiamo utilizzare in chemioterapia perché hanno un'azione sinergica con questo o sinergica o riduzione della sussicità perché sono queste le cose importanti da conoscere sapere la conoscenza l'importanza della conoscenza le sostanze le conosciamo oramai sul forafano è un istone di acetilasi quindi è quello che va a giocare con epigenetico all'interno dell'organismo l'indolotrecarbinolo è il successivo è una delle sostanze più importanti perché può essere utilizzato nel triplo negativo dove non utilizzano altri farmaci oltre la chemioterapia e riduce il 50% della proliferazione conosciamo la curcumina benissimo anche perché sappiamo benissimo quale sono i target genetici ed epigenetici di queste sostanze e così l'epigallocatechina che è un estratto del tè verde sappiamo benissimo come utilizzarlo faccio vedere questa diapositiva perché voglio vedere le faccio vedere perché questo in Cina abbiamo visto questo io è un colo quindi un paziente non stregone questo era un paziente che faceva rituximab quindi un anti-CD20 per un linfoma ho visto questa flebina ho detto beh gli fanno un po' d'albumina il collega mi dice no 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 questo è tè verde lo mettiamo in vena perché è sinergico l'azione tè verde con rituximab e in ricerca è stato visto che in effetti ci sono studi clinici dell'importanza dell'epigallocatechina gallato il vischio è una delle sostanze più importanti che possiamo utilizzare anche il self-food è una delle sostanze che noi utilizziamo e sappiamo benissimo quale può essere la sua azione quindi fondamentalmente rientra nel quadro dell'ossigenazione del trattamento qui in effetti vi volevo far vedere alcuni lavori che stiamo facendo questi sono pazienti da tumore della mammella e sono seguiti praticamente 225 187 e 38 casi che non hanno voluto fare niente oltre l'intervento chirurgico se li abbiamo seguiti per 5 anni i pazienti ancora tutti e due i gruppi non sono ricaduti quindi è un dato questi in teoria dovevano ricadere nel 10-15% per statistica non sono ricaduti questi hanno un atteggiamento diverso perché alcuni addirittura erano triplo negativi e in effetti è questo abbiamo fatto uno studio su triplo negativi su 49 casi di triplo negativi e abbiamo studiato come sono andati a finire siamo andati a vedere che quelli che erano con le metastasi 4 morti ma diciamo i decessi sono seduti da 2 a 8 mesi non possiamo fare miracoli ma in effetti i 9 sono ancora survival con le metastasi a 5 anni attenzioni sono a 5 anni uno dei 35 negativi che era ricaduto aveva fatto solamente la dieta aveva fatto solamente la dieta e non aveva fatto un trattamento integrato come trattamento integrato significa dieta e sostanze naturali quindi l'importanza dell'integrazione questi sono alcuni studi che noi stiamo facendo abbiamo fatto in cui in effetti abbiamo utilizzato le sostanze naturali per ridurre la nausea e il vomito abbiamo fatto abbiamo fatto anche questo è il primo studio pubblicato su Journal Cancer Science Therapy abbiamo fatto un secondo studio ripetendo la cosa e nuovamente sono venuti fuori i risultati l'abbiamo fatto con la fatigue utilizzando sempre lo stesso giornale abbiamo fatto lo stesso discorso abbiamo ripetuto lo studio fondamentalmente ripreso praticamente le stesse cose quindi noi ecco il concetto di ricerca ecco il concetto di terapia ecco il concetto di sapere che cosa dare ai pazienti siamo in questo è un lavoro con la curcumina abbiamo visto fondamentalmente che pazienti che erano in hospice abbiamo fatto un tempo zero e dopo dieci giorni di trattamento vedete VES era così dopo dieci giorni la VES era ridotta e abbiamo visto che questa riduzione e questo è quello che noi stiamo facendo con self food anche per quello di prima volevo vedere ecco questi i dati scusatemi per l'impaginazione su 41 casi 38 sono stati valutati più dell'11 quindi intorno al 40% fondamentalmente ci hanno avuto una riduzione di VES PCR 10 giorni di corcomina dell'80% quindi dare una sostanza di questo genere significa togliere l'infiammazione abbiamo visto che toglieva anche il dolore perché in effetti toglie il dolore dell'infiammazione ho quasi concluso volevo solamente sì sì volevo far vedere dei casi pazienti con tumore della mammella fa chemioterapia ha fatto chemioterapia dopo 4 anni praticamente non fa chemioterapia fa solamente radioterapia ma perché non c'è la necessità si trova così si trova abbiamo cominciato a fare il trattamento fa il trattamento integrato e dopo 4 mesi dopo 4 mesi di trattamento questo era il risultato c'era solamente questa lesione qui abbiamo continuato il trattamento il paziente adesso è libero da malattia questo è per quanto riguarda un tumore della mammella che dopo 14 anni ha avuto una disfonia va a fare la pette e questo era il risultato abbiamo fatto un trattamento integrato questo è il trattamento dopo 6 mesi solamente con l'exemestane che è un anti aromatasico con un trattamento integrato e questo è il risultato attualmente la paziente è libera la malattia questi sono gli studi che noi abbiamo già fatto e questi sono gli ultimi studi che porteremo al congresso internazionale di oncologia integrata che sono 9 lavori di cui sono case report 3 casi abbiamo la completa risoluzione vedete il concetto del microbiota e tutto il resto quindi noi continueremo a fare e continuiamo a fare ricerca e lavori di questo genere abbiamo praticamente noi facciamo un master in oncologia integrata perché dobbiamo insegnare a tutti come poter utilizzare i farmaci e come poter utilizzare le sostanze naturali perché non possiamo dire va bene tutto perché tutto abbiamo visto non va bene perché ci sono alcune cose che noi non dobbiamo utilizzare o dobbiamo utilizzare con parsimoni o dobbiamo utilizzare con conoscenza la conoscenza è la cosa più importante questi sono i lavori che noi stiamo facendo con tutte le università e con tutte le università con ospedali per quanto riguarda il trattamento integrato io dico sempre bisogna conoscere per far continuare a sognare i nostri pazienti grazie 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 moltissime per questo intervento